Abbiamo avuto una lunga discussione, come sapete, sui temi migratori. In generale penso che si sia comunque trattato di un passo avanti, un passo avanti soprattutto su quella che qui viene definita la dimensione esterna, cioè il rapporto tra flussi migratori che attraversano il Mediterraneo e l'azione dell'Unione Europea. Credo che l'iniziativa italiana di questi mesi, di questo anno, sia stata apprezzata in modo molto rilevante ed è importante che sia apprezzata dai leader, dai governi dei più diversi orientamenti, delle più diverse famiglie politiche. C'è un riconoscimento unanime dei passi avanti che sono stati fatti nella lotta contro i trafficanti di esseri umani. Mi auguro che questo consenta una transizione verso una gestione più regolare dei flussi migratori, consenta di intervenire come si deve sulle violazioni dei diritti umani nei luoghi di detenzione dei rifugiati in Libia, consenta di andare avanti in un lavoro che sta producendo risultati straordinari dell'Italia, dell'Unione Europea, di organizzazione internazionale per i rimpatri volontari assistiti dalla Libia e dai campi in Libia verso altri paesi africani. Un lavoro che finalmente vede una collaborazione attiva di molti paesi africani. In questi giorni partono all'incirca 700, 600, 800 persone al giorno con voli charter di rimpatri volontari assistiti. E' esattamente il meccanismo virtuoso che dobbiamo sviluppare. Capacità delle autorità libiche di controllo del territorio, diritti umani in Libia, rimpatri volontari assistiti. C'è uno scoglio nella nostra discussione che è quella che qui si definisce la dimensione interna, e cioè le regole di Dublino, i confini interni tra i paesi europei. Su questo, come sapete, non siamo riusciti in questa lunga riunione a superare le resistenze che restano dei paesi del gruppo di Visio Grad che rifiutano la decisione che pure è stata presa di obbligatorietà delle quote. La mia speranza è che i successi nella lotta al traffico di esseri umani e quindi la riduzione dei flussi irregolari renda il clima sulla discussione delle regole interne più semplice, perché è chiaro che se non hai una pressione di centinaia di migliaia di migranti irregolare e ingovernata è forse più facile convincere quelli che pensano di risolvere tutto con i muri che bisogna collaborare con le relocation tra paese e paese. Non ci siamo ancora, sinceramente. Quindi è un lavoro che deve proseguire e che non possiamo tradurre in un avallo alla posizione di chi dice non applichiamo le regole europee. Questo è stato molto chiaro ieri nella riunione che aperture a considerare un optional, le regole europee sulle relocation di migranti, non sono aperture condivise dall'Unione Europea. Presidente, ma sareste anche pronti ad andare al voto in consiglio ad approvare la riforma con una maggioranza qualificata in caso? Ma io credo che l'obiettivo deve essere un obiettivo di raggiungere un consenso perché purtroppo è proprio la vicenda delle relocation che ci dimostra che non sempre le decisioni prese senza consenso poi vengono rispettate. Allora è inaccettabile che sia così. C'è un'arma estrema di ricorrere anche a un voto di maggioranza. Io la considero un'arma estrema. L'Italia deve fare, e lo stesso credo, faranno la Francia e la Germania ogni possibile sforzo per arrivare a una soluzione consensuale. E bisogna provare a farlo entro quest'anno, facendo un passo avanti a giugno e poi arrivando a concludere con nuove regole entro la fine dell'anno. Presidente, su Brexit, lei come ha accolto il discorso di Teresa May? Mi pare che avete fatto l'applauso e è possibile fare un rapporto dopo l'uscita dell'Inghilterra come chiede l'Inghilterra, le banche, eccetera? Noi avremo una discussione su questo metà mattinata, quindi forse nella conferenza stampa che faremo a fine lavori avremo modo di parlarne meglio. La prima ministra May, che naturalmente non parteciperà oggi, invece è intervenuta ieri rivendicando la linea con la quale siamo riusciti ad arrivare l'intesa con la Commissione qualche giorno fa. E noi abbiamo accolto con grande cortesia la sua disponibilità, però siamo consapevoli che la seconda fase non sarà più facile della prima. Vi tranquillizzate sulle parole di Davis e sul voto di Westminster? Ma ne parliamo più tardi, grazie.